Grande Massimo di Cataldo, sei stato bravissimo a Oro Mai Più, ti sei piazzato nelle primissime posizioni. Intanto che esperienza è stata? Beh, è stata un'esperienza fantastica perché ho potuto fare questo viaggio nella musica insieme ad altri colleghi molto stimati e artisti straordinari della nostra musica italiana, quindi io direi che è stata veramente una bella esperienza per me. Tu sei stato protagonista anche del Festival di Sanremo di alcuni anni fa. Ecco, la Città dei Fiori, il Festival, cosa rappresenta per te? Un traguardo, un possibile obiettivo per il futuro? Oh, beh, chissà. Un obiettivo sì, sempre comunque, perché è un punto di riferimento importante per la musica italiana e quindi traguardo non so, perché comunque è sempre, in ogni caso, un passaggio, quindi mi piacerebbe certamente passarci di nuovo.